Ilaria tornata in acqua, tornata in pista quindi, per la batteria le tue sensazioni sulla gara? Allora sì, sono tornata a gareggiare perché ovviamente stare sugli spalti a vedere gli altri gareggiare mi ha fatto venire insomma lo spirito agonistico a livelli molto alti quindi volevo rimettermi in gioco anche se ovviamente la preparazione è stata compromessa e diciamo che la mia presenza qui era ancora molto in dubbio prima di iniziare e le sensazioni comunque sono buone, non pensavo di nuotare già questo tempo al mattino sinceramente ho provato a spingere un po' per vedere subito perché il pomeriggio anche è in forse quindi adesso vediamo un attimo con Matt ma credo ormai di buttarmi e provarci anche se non verrà fuori il mio tempo però è giusto mettersi in gioco Hai bisogno di tornare in acqua insomma, ti manca? Sì sì sì, no veramente, cioè vedere gli altri gareggiare e pensare che potrei farlo anch'io mi ha veramente scatenato qualcosa dentro che probabilmente non provavo da tanto tempo perché è da Abu Dhabi che non gareggiavo, ho fatto una gara a Milano però ovviamente avevo ancora male alla caviglia perché un mese e mezzo fa mi sono rotta un legamento e è stata una ripresa un po' difficoltosa e quindi ti puoi salire? Sì esatto Allora in bocca al lupo per il proseguio Grazie mille Crepi Allora in bocca al lupo per 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 lupo